Denaro si dimetta, è caos nel PD provinciale, Peppe Calabrese conferma le richieste avanzate da un ampio numero di dirigenti del partito e chiede al segretario provinciale di fare un passo indietro. Mattone d'oro, cale il valore della casa in Sicilia, Ragusa in controtendenza con un segno più. Il pro Ragusa riparte da Gulino, il nuovo tecnico della squadra del capologo ha esperienza anche in promozione, intervista al presidente Giorgio Mirabella. Chiedono le dimissioni del segretario provinciale del partito democratico Giovanni Denaro, un attacco frontale di dieci componenti della segreteria dei democratici. Sì, mi pare che sia chiaro quello che sta accadendo nel partito democratico, noi abbiamo fatto il congresso provinciale a ottobre, da ottobre ad oggi un segretario provinciale che non riesce né a fare la segreteria né a fare la direzione né ad eleggere il presidente dell'assemblea provinciale e il tesoriere. Lo elegge venerdì in una convocazione alquanto spuria e anomala dove più di 80 persone, 80 componenti dell'assemblea provinciale su 270, 271 per l'esattezza non ricevono la notifica e quindi non partecipano all'assemblea. C'è un'intera componente che è la componente che faceva riferimento a sottoscritto che al congresso ha deciso di non partecipare a questa anomala convocazione anche perché si è tenuto a comiso quella prima volta dopo decenni di centralità sul Ragusa, purtuttavia l'anomalia della convocazione, l'anomalia che alcuni non hanno ricevuto la convocazione ha fatto sì che noi abbiamo deciso di non partecipare. Mi pare chiaro che 102 persone presenti su 271 non rappresentano la maggioranza e non rappresentano la maggioranza da quando Denaro è segretario per la terza volta, mentre le prime due volte le assemblee sono state sciolte dal segretario, addirittura la seconda volta è fuggito portandosi via tutto e noi avremmo potuto votarci il presidente e il tesoriere non l'abbiamo fatto per rispetto loro, loro venerdì nel non rispetto totale dello statuto con 102 presenti su 271 quindi col 37% dell'assemblea quindi in nero a qualsiasi regolamento e qualsiasi statuto dove per l'elezione del presidente e l'elezione del tesoriere è prevista la maggioranza assoluta degli aventi diritto quindi in prima votazione ci volevano 136 voti, loro con 102 voti con un colpo di mano con l'avallo di Enzo Napoli che fa riferimento alla segreteria regionale decidono di votare tesoriere e presidente dell'assemblea. Tutto questo ha scaturito polemiche noi non eravamo presenti ma essendo presente Mario D'Aste che faceva parte della maggioranza come vice segretario che al ballottaggio tra me e Denaro aveva deciso di sostenere Denaro ha preso atto che questa è una segreteria, un segretario che di certo non rispetta le regole democratiche. Davanti a una presa di posizione di quasi dell'intera area di Mario D'Asta tranne la parte di Comiso e tutta l'area che fa riferimento al sottoscritto dove c'è dentro Modica, Scicli, dove c'è dentro anche la senatrice Padua, dove c'è dentro un bel pezzo del Partito Democratico, riteniamo opportuno che tutto venga rivisto. Abbiamo presentato ricorso, riteniamo che non siano legittime le votazioni delle due figure, quindi del tesoriere e del presidente dell'assemblea e ora rispetto a questo aspettiamo l'esito del ricorso e in ogni caso ci riuniremo perché basta pensare che sono contro la segreteria di Denaro i circoli di Monterosso, Gerratana, Chiaramonte, Ragusa 1, Ragusa 3, Modica, Scicli, parte di Pozzallo, parte di Ispica e parte di Santa Croce e Camerina. Cosa rimane? Rimane Comiso e rimane Vittoria e rimane il secondo circolo di Ragusa che ahinoi purtroppo tiene spaccato anche il partito della città capoluogo. Nessun intervento strutturale per rilanciare la piccola e media impresa, ma solo un grande contenitore il piano triennale delle opere pubbliche frutto degli interventi delle precedenti amministrazioni. Hanno voluto snocciolare date e numeri i gruppi politici di opposizione dopo l'approvazione in Consiglio Comunale a Ragusa del piano triennale delle opere pubbliche, uno strumento di programmazione con 333 interventi, ma solo 4 importanti opere pubbliche sono frutto dell'amministrazione Piccitto. Assolutamente sì, è un giudizio assolutamente negativo sulla programmazione delle opere pubbliche per il prossimo triennio. Abbiamo registrato un'incapacità di proporre una visione nuova alla città, un programma triennale fatto da una mera elencazione di opere, 333 opere slegate l'uno dall'altro senza trovare coerenza in alcuna visione. Noi confidavamo che questa amministrazione potesse rappresentare anche un elemento di novità in città, potesse rappresentare un nuovo modo di pianificare e programmare e invece abbiamo appurato la incapacità di fare di produrre atti legittimi, perfino questo. Abbiamo registrato in aula e questa volta confortati dal parere del dirigente, dal parere del segretario, perfino dal parere del Presidente del Consiglio che vi era un fatto grave e increscioso, ovvero che l'atto deliberativo su cui era stato posto il visto di legittimità di per sé non era legittimo perché era carente della documentazione necessaria per legge. Abbiamo rappresentato una pregiudiziale, fu richiesta una sospensione di 5 minuti, in verità la sospensione durò oltre un'ora e mezza. Hanno dovuto registrare tutti quanti che le cose scritte basta solo leggerle. L'atto era stato operato in disprezzo alla legge, solo una serie di emendamenti correttivi lo hanno perfezionato, lo hanno reso legittimo. Nel momento in cui siamo stati chiamati a fornire i nostri suggerimenti, ancora qui abbiamo registrato un atteggiamento di chiusura e allora ce ne siamo assolutamente tirati fuori perché non vogliamo essere chiamati alla corresponsabilità di cose fatte male e pensate peggio. E' morta al centro grandi ostioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania, la casalinga modicana sessantenne rimasta ostionata mentre aveva tentato di accendere lo scaldabagno a legna utilizzando un flacone di alcol. La donna non ce l'ha fatta a superare la crisi, susseguenti agli ostioni di primo e secondo grado sul 50% del corpo che si era procurata lo scorso 25 giugno nella sua abitazione di Frigintini. Il Tribunale delle Riesame di Ragusa, a seguito dell'istanza di ricorso avanzata dall'Avvocato e difensore di fiducia Salvatore Giordanella, ha annullato il sequestro del computer e di documentazione cartagia disposta dalla Procura a carico del giornalista Antonio Di Raimondo, ordinando l'immediata restituzione del materiale il 4 luglio scorso. L'ordinanza, che annulla il sequestro voluto dalla Procura di Ragusa, parla di una significativa e illegittima interferenza sull'attività giornalistica dell'indagato, perché consente agli inquirenti di conoscere le fonti del giornalista anche con riserimento a fatti estranei al procedimento. Una sentenza di grande valore quella del Tribunale del Riesame, in quanto fa chiarezza sulla posizione tra giornalista professionista e pubblicista in merito al segreto professionale. Il Tribunale, infatti, si legge nella sentenza, ritiene che, ancorché l'articolo 200 del codice di procedura penale faccia riferimento al segreto opposto dal giornalista professionista, le tutele previste da tale norma e il procedimento disciplinato dell'articolo 256 codice di procedura penale devono trovare applicazione anche nel caso di giornalista pubblicista. Pensionati sempre più tartassati e dimenticati. Un milione di firme già raccolte è da consegnare al Presidente del Consiglio per chiedere interventi in tutela dei pensionati. Sì, i pensionati hanno finito di raccogliere appunto un milione di firme, dopo li hanno inviati a Renza con la dicitura siamo sereni ma non troppo. Questa raccolta di firme che cosa vuole significare? Vuole significare un po' di attenzione alla categoria dei pensionati che è stata bistrattata in questi ultimi tempi. E non solo. I pensionati lottano anche per i propri nipoti affinché il lavoro sia elemento centrale di questo Governo, così come ieri ha citato il Presidente della Repubblica. Senza lavoro dei giovani questo Paese non ha futuro. ed è per questo che i pensionati, la categoria che il lavoro conosce abbastanza bene, anzi molto bene, ingalza il Governo affinché questo si faccia. Ma anche per l'altro problema non secondario, sono quelle categorie degli non autosufficienti dove anche lì il Governo deve attenzionarlo perché ci sono famiglie che hanno in casa persone non autosufficienti e di questo il Governo deve farne, come dire, memoria e atti concreti. C'è una, abbiamo raccolto anche per concludere con la raccolta delle firme, la UIL, mentre la raccolta dei pensionati era unitaria, invece la UIL ha fatto una massiccia raccolta di firme per l'evasione fiscale in questo Paese. Come tutti sappiamo l'evasione ha raggiunto limiti ormai insopportabili. Si parla di 180 miliardi l'anno che questo Paese non riceve nelle casse affinché si possano utilizzare poi in lavoro, infrastrutture e quant'altro. E di questo la UIL sta facendo carico, facendo appunto una massiccia raccolta di firme, incalzando il Governo che si deve fare di più, si può fare di più. Per quanto riguarda a livello locale, noi abbiamo una importante assemblea che si farà giorno 15 per quanto riguarda la UIL, la categoria dei bancari, per il rinnovo contrattuale. Per la prima volta a Ragusa verrà il segretario nazionale Massimo Masi a concludere questa assemblea. Riteniamo che partiamo da lì, da questa assemblea per il rinnovo del contratto, per arrivare appunto ai rinnovi del contratto della pubblica amministrazione che da anni ormai segnano il passo. Mancano le opere di urbanizzazione primaria, nonostante i ripetuti solleciti all'amministrazione Urato. Un appello, l'ennesimo, dei residenti di Contrada Pellegrino all'estrema periferia di Santa Croce, che pagano i tributi senza avere i servizi minimi essenziali. Purtroppo oggi, su richiesta di alcuni residenti qua di Viale Euro 2002, mi sono recato per verificare un po' lo stato di disagio e di veramente abbandono in cui si trovano a vivere. Purtroppo mi rincresce che questo sia territorio del Comune di Santa Croce, poiché questo disagio dura già da diverso tempo, nonostante le numerose richieste per iscritto, verbali, inoltrate da questi cittadini. Cittadini che, oltre ad aver già pagato le opere di urbanizzazione, di pagare normalmente l'Atari e tutto quanto, tutte quelle tasse o eventuali imposte che il Comune dovesse loro richiedere, come hanno potuto dimostrare tranquillamente anche quando sono andati a parlare con i rappresentanti dell'amministrazione. Purtroppo a fronte di tutto ciò, come possiamo vedere anche dalle immagini, li ritroviamo costretti a vivere in uno stato di veramente abbandono. Per quanto riguarda i servizi di raccolta della spazzatura, dove abbiamo dei cassonetti proprio buttati a terra, capovolti, parte della spazzatura è data a fuoco. È vero che non dipende dall'amministrazione, però magari andare a controllare l'effettivo stato del servizio sarebbe opportuno. Dopodiché lo stato di abbandono in cui si trova anche la sede viaria, dove loro sono costretti giornalmente, frequentemente, a passare e soprattutto nel periodo invernale, dove grossi tratti vengono allagati dalle piogge quotidiane che possono esserci. È necessario un intervento da parte dell'amministrazione e indubbiamente un intervento repentino. Il mio appello quindi all'amministrazione è invece di andare ad inserire magari delle opere nel piano trinale delle opere pubbliche, piuttosto che programmare degli interventi come ufficio tecnico di opere che possono magari essere procrastinate tranquillamente, andare a verificare innanzitutto lo stato di sicurezza in cui si trovano a vivere i cittadini e lo stato di disagio, perché andare ad illuminare delle strade in cui vivono delle persone indubbiamente garantisce una maggiore sicurezza o meglio almeno il senso di sicurezza in cui ci si trova a vivere. È un intervento da parte del Comune per il ripristino di questa strada e di tutti i servizi, perché siamo stanchi sinceramente di dare acconto per opera di mobilizzazione, come già il sottoscritto ha pagato nel 2006 e come ogni anno paghiamo le tasse e che non vediamo però nessun servizio. Dunque io chiedo al sindaco, perché d'altra parte mi conosce benissimo, perché sono uno scocciatore, perché ci vado spesso dal signor sindaco, però mi ha chiesto di mandare per riscritto, perché nel 2003 hanno presentato, perché allora io non ero proprietario dell'immobile acquistata successiva, hanno presentato la domandina affinché le strade fossero prese dal Comune. Il Comune fino ad oggi non ha risposto alla prima del 2003 e nemmeno a quella successiva che ho ripresentato io personalmente quest'anno, 3-4 mesi fa. Chiedo al signor sindaco che con me devo dire che è stato gentilissimo e disponibile, che la sua disponibilità me la dimostri con i fatti, perché è disponibile a parole, io sì, io così, io così, però di fatto siamo sempre allo Stato di 15 anni fa, non ci sta bene più, perché paghiamo le nostre tasse, non siamo inferiori ai cittadini di mare, perché hanno messo dei pali a Caugana e mi hanno risposto, beh là sono a mare, sì, e che cosa vuol dire che sono a mare? Pagano forse più di me che sono in campagna? Questa è la domanda che faccio al signor sindaco, però qui non si vede niente, né luce, né strada, né acqua, né fognatura, non abbiamo niente, mentre a mare hanno tutti i servizi e loro pagano volentieri, non lo so volentieri fino a che punto, comunque pagano perché hanno i servizi, noi qui non abbiamo il becco di niente, siamo allo Stato ebraico, mia moglie era l'autore e mi riuscite a me, pariamo di non fare questo, perché passava una macchina e ho alzato un polverone che io avevo fatto da pomodorini salati e l'ho dovuto buttare perché si sono riempiti di polvere. Ragusa in controtendenza rispetto ai dati regionali sul costo delle abitazioni, nei prossimi due anni il valore delle case in Sicilia calerà tra il 5 e il 10 per cento, secondo le previsioni dei principali gruppi immobiliari, dopo che già l'Istat ha certificato che, a livello nazionale, nei primi tre mesi del 2014, l'indice è sceso dello 0,7 per cento sul trimestre precedente e del 4,6 per cento nel confronto annuo. Come detto però, la provincia di Ragusa appare in assoluta controtendenza, seppure il segno sia appena di poco positivo nell'andamento dei prezzi. I dati di giugno 2014 segnano un più 0,69 per cento rispetto a quelli del giugno 2013, almeno stando alle statistiche elaborate da immobiliare.it. Il mese scorso gli immobili residenziali in vendita nella provincia di Ragusa hanno registrato un prezzo per metro quadro pari a 1.259 euro, a fronte dei 1.250 euro richiesti nel mese di giugno 2013. Negli ultimi 24 mesi il prezzo ha toccato il valore massimo nel mese di luglio 2012, con 1.289 euro per metro quadro e il più basso ad agosto 2013, quando per la vendita di un immobile residenziale, sono stati richiesti 1.241 euro a metro quadrato. Uno spazio adeguatamente attrezzato per i diversamente abili per raggiungere le spiagge del litorale. Un protocollo d'intesa con l'INA e la Ragusa che ha un duplice obiettivo. Si tratta di un progetto che ha un obiettivo comune che è quello di rendere e facilitare la vita dei portatori di handicap. Nel contempo si è messo in atto un partenerato tra due enti pubblici, il comune e l'INAIR, assieme anche ai privati, e questa è la novità, i gestori di due stabilimenti balneari. Nel contempo interviene anche il Comitato Parolimpico, oltre che è la federazione sport nuoto. Quindi sono diverse componenti e per questo è stata abbastanza complessa, non semplice, per mettere tutti d'accordo. Il progetto è stato voluto proprio dal direttore regionale, la dottoressa Petrucci, e pianificato dalla nostra sede, dalla sottoscritta e dal dottor Sera Guadagno. Nello specifico si intende proprio dare la possibilità ai disabili, non soltanto assistiti in AIL, ma anche altri soggetti che provengono da altri tipi di disabilità, dare proprio la possibilità di poter accedere alle spiagge. In maniera particolare i lidi interessati sono il Lido Margarita Beach e l'Aula Beach. Questi due lidi verranno proprio attrezzati, ci saranno a disposizione delle sdraio e degli ombrelloni e nonché la cosa importante, verranno messi a disposizione due tecnici proprio per favorire il nuoto e quattro assistenti. Inoltre verranno forniti anche due sedie job. Quest'iniziativa è un'iniziativa nuova, a cui crediamo molto, e l'INA è la prima volta diciamo che si apre al sociale, dando l'opportunità a coloro che vivono in una situazione di svantaggio di poter usufruire di questa opportunità. Allora questa è una bellissima iniziativa che noi abbiamo immediatamente sposato e il nostro obiettivo era già a priori poter rendere accessibili le spiagge per le persone svantaggiate. Ne abbiamo avuto modo con questo progetto e noi abbiamo avuto opportunità di raccogliere tutte le associazioni, alcune delle quali fanno parte anche della rete, delle associazioni che è stata istituita dal Comune di Ragusa, quindi per noi è stato più facile poterle contattare e poter far sì che questo progetto possa essere fruibile e possa andare avanti. Naturalmente il fatto di poter far usufruire delle spiagge, poter avere degli istruttori, poter avere gli ombrelloni, poter avere le sedie a sdraio è un grande punto di forza oggi per le spiagge del Comune di Ragusa e speriamo che possano anche essere un motivo turistico per far avvicinare le persone svantaggiate al nostro territorio. Noi lavoreremo per questo e lavoreremo insieme alle associazioni per contribuire per il bene della città. Terminata la stagione con una sofferta e meritata salvezza, grazie al navigato, mister Peppe Emmalo, il pro Ragusa del presidente Giorgio Mirabella riparte per la nuova stagione 2014-2015. Dopo aver vagliato diverse ipotesi tecniche, il pro Ragusa ha deciso di affidare la panchina a Saro Gulino la scorsa stagione all'associazione calcistica Chiaramonte che con entusiasmo e professionalità ha deciso di sposare il progetto della compagina sportiva ragusana. Sì, lo dicevo qualche mese fa che avevamo nelle intenzioni di questa società appunto di fare un campionato di seconda categoria del 2014-2015, sicuramente un buon campionato. Ripartiamo da Saro Gulino che l'anno scorso allenava il Chiaramonte Calcio, ha avuto un passato con l'orsa di Ragusa in prima categoria, appunto da lui si riparte e si riparte con degli elementi che provengono anche dalla prima categoria e quindi dall'orsa. Ne posso citare qualcuno, Moreno Milazzo, Gabriele Schemmari o Baglieri, questi sono degli elementi che si aggiungono a quelli dell'anno scorso del pro Ragusa come Emanuele Leggio, Carmelo Tumino, Gianni Ciria, sono degli elementi che sicuramente faranno in modo che la seconda categoria a Ragusa rinasce, rinasce una buona seconda categoria e facciamo in modo magari di poter arrivare nei primi posti e sicuramente fare i play-off perché faremo una bella squadra, quindi speriamo bene. Presentata stamane in conferenza stampa, la nuova stagione teatrale dell'Inter Sparledune. Sì, siamo arrivati a questa non edizione, siamo felici. Quest'anno stiamo iniziando un po' in ritardo perché speravamo per i mondiali di poter arrivare con l'Italia ai quarti, è stato venerdì scorso, non ci siamo arrivati con l'Italia e quindi una serata comunque l'avevamo tolta per evitare di incidere sul divertimento maschile. Il nostro è un divertimento per la famiglia, queste serate sono state fatte per la famiglia e non volevamo spezzare questo connubio tra moglie e marito ponendogli una scelta. Purtroppo la scelta poi non c'è stata e quindi partiamo comunque l'undici come abbiamo programmato, abbiamo creato questo palinsesto con queste tre serate, l'abbiamo fatto ricco perché dovendo ne fare tre abbiamo utilizzato tutti i mezzi a disposizione per potenziarle. Partiremo appunto venerdì con questo spettacolo della compagnia di Enrico Guarneri con il Malato Immaginario, lo volevamo fare già da tempo, penso che sarà uno spettacolo molto bello e comico anche se parte da delle basi su cui si possono fare anche delle riflessioni. La seconda serata sarà il 18 con Gino Astorina, anche lui è una presenza ricorrente ormai negli ultimi anni del teatro, per noi la sua compagnia è diventata ormai parte della famiglia visto che hanno dato sempre il massimo e hanno reso e hanno contribuito anche loro a rendere queste serate spettacolari. L'ultima serata abbiamo scelto un ragusano doc, quindi Peppe Arezzo con la sua orchestra, con uno spettacolo di musica, di danza, anche di varietà perché ci sono anche degli attori che interverranno e poi ci sarà la special guest Deborah Jurato che per l'ultima serata ci sembrava carino avere nel nostro palinsesto anche perché lei ha lavorato anche nell'ambito della nostra azienda, a parte che per noi è un onore poterla avere qui insieme a noi e tanti ragusani se la aspettano in occasione del teatro.